C'è una cosa che è strana con questa storia del cilindro pochese dell'Università Italia perché al contrario di, non so prendo per esempio, in Canada oppure in qualsiasi altro paese che festeggiano gli anni del paese, c'è comunque un sentimento di una schierenza nazionale che è dietro, la gente è contenta di festeggiare perché è fiera di essere canadese, è fiera di essere estandico, è fiera di essere francese invece in Italia non ho visto questa cosa Potete muovervi come credete Allora, Chantal, la nazionalità, è interessante sto concedendo, io perdo sempre i microfono, abbiate pazienza Ecco, grazie Angelo, non senti la nazionalità, anche in questo studio non viene fuori Non sento l'orgoglio di essere italiano Ma chiediamolo a Fusco questa cosa dell'orgoglio di essere italiani Dopo 150 anni di usurpazione non è male Vabbè, lasciamo stare per un secondo quello che dice, no ma non è vero, non lasciamo stare quello che dice Ruggero Cos'è che, lei ricordiamo che Chantal è canadese, fa parte della costruzione di questo programma Costruendolo questa volta, c'è poco da costruire, però diciamo qualcosina facciamo, che cosa è successo? Cioè, cosa hai capito della nazionalità italiana? No, allora, cioè, io stavo dicendo che questa storia del centocinquantesimo dell'Italia, c'erano questi festeggiamenti Però non vedevo la gente contenta di festeggiare, mentre in altri paesi quando si festeggia l'unità è un motivo d'orgoglio Vorrei sentire Fusco e Sassoli su questo? Ma infatti adesso lui sta giustamente scherzando, ci sta chiamando in causa un leghista sulla questione del sentirsi o meno italiani Il problema non è tanto se un leghista si sente o meno italiano, il problema è che gli italiani non si sentono italiani È vera la questione del non senso di appartenenza a questa nazione da parte degli italiani, non da parte dei leghisti I leghisti probabilmente sono quelli che più sono attaccati al territorio Ovviamente noi ci sentiamo prima Lombardi, Veneti, io mi sento prima di tutto, mi sento Perese Ci sentiamo parte di un territorio che poi è riunito in questa nostra nazione che si chiama Italia Il problema sono gli italiani, il problema sono quegli italiani che magari attaccano il tricolore sul retro della macchina E mettono prima il rosso, poi il bianco, poi il verde Ma questo è il problema, che non sono veri italiani Oggi non c'è un amore per la patria perché la gente non si riconosce nell'Italia I festeggiamenti sono stati quasi imposti, non sentiti dalla gente L'inno li obbligano a cantarlo, i calciatori devono cantare l'inno Prima non lo cantavano spontaneamente, adesso è venuto fuori lo scandalo dei calciatori che non cantano l'inno Ovunque bisogna cantare l'inno Perché? Altrimenti si fa brutta figura, non perché si ama la patria Italia Ma infatti io a questo punto mi chiedo chi sono gli italiani? No, la vecchia Italia, le piccole patrie di una volta Cioè quella è la verità storica Cioè tutte le persone che vengono in Italia, secondo voi Vengono per vedere la macchina da scrivere che c'è a Roma immensa del Vittoriano Oppure vengono per vedere tutto ciò che in Italia è stato fatto come monumenti, come opere d'arte Fino alla fine del Settecento Io penso che non verrebbe nessuno in Italia se dovessero vedere le opere dell'Ottocento e del Novecento Su questa cosa delle manifestazioni imposte, poi arrivo Sassoli Sindaco del Gobbo, lei è chiamato in causa Sì, io però ho assistito ad un fenomeno veramente, io non credo unico, ma particolare nella mia città Noi da dieci anni con l'amministrazione che ho l'onore di guidare dal 2002 Abbiamo, come dire, coinvolto le scuole, coinvolto la popolazione Oggi chi ha occasione di venire a Magenta per i festeggiamenti del 4 giugno Non gusta semplicemente una rievocazione storica Ma c'è veramente un orgoglio di popolo Ci sono migliaia di persone Popolo italiano Il popolo magentino e italiano No, 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 no Fatemi dire che hanno l'orgoglio di mettere fuori dal proprio balcone la bandiera tricolore Insieme a quella gialla con l'aquila nera di Magenta Chi viene e non si rende conto e dice ma come mai Si è riscoperto questa voglia di appartenere a una storia che non è solo storia locale È anche una storia nazionale Ed è veramente una cosa molto bella, il pomeriggio della domenica abbiamo la revocazione ma la mattina c'è il corteo delle istituzioni con tutti i gruppi e fino all'una, fino alle 13, migliaia, non centinaia, migliaia di magentine di persone stanno lungo le strade ad applaudire il corteo. A me vedere davvero nella mia città questo orgoglio, cioè delle bandiere tricolori e della città di Magenta esposte in questi anni ha significato molto, vuol dire che molte persone si sono riappropriate di una storia. Posso citare Metternich, quando parlava in italiano diceva Municipal Geist, cioè spirito municipale, perché la grande storia d'Italia è quella dei comuni, prima giustamente la presenza della Lega cosa diceva? Io prima mi sento, non ho capito bene il comune, ma è normale che sia così, cioè prima uno è civico, la mia città, il mio comune, poi si rappresenta in quelle che erano gli stati tradizionali. Questo elimina il senso dell'identità nazionale però? Ma no, ma no, cerco di capire. Non si può, non si può, secondo Maurizio Ruggero, esiste l'identità nazionale o no? Allora, se lei per l'identità nazionale mi dice quella della vecchia Italia, sì, nel senso che uno si sente del comune di Verona o di Milano, quello che sia, e dopo naturalmente del Ducato di Milano, Non dello Stato dell'Ombardo Veneto, del Lombardo Veneto italiano. Ho detto comune e poi stato di appartenenza, quindi Lombardo Veneto è di dov'è, uno dice o è italiano o è stato pontificio o è di opera, perché la nazione italiana è la nazione italiana, ma lo stato di appartenenza è quello antico di una volta. Scusate un attimo, stiamo facendo un po' degli arzigogoli. Allora, se voi andate in Canada, non è che dite sono Lombardo, sono Veneto, sono italiano, punto, perché oggettivamente adesso è l'Italia. All'estero si tende a dire proprio la città, proprio per non essere etichettati. Diciamo che gli unici che possono dire sono di Milano, perché Milano ha comunque una visibilità internazionale, con tutto rispetto parlando, forse un po' più alta di Mantua, piuttosto che di Gubbio. Ma non per mancare di rispetto né a Mantua né tanto a meno a Gubbio, è la geografia, la storia. La Lombardia è conosciuta nel mondo, attenzione. Ma guardi, le migliori strade dedicate al mondo della finanza e dell'economia si chiamano Lombard Street. Ovunque, ovunque, ma io sono ben contenta di... Scusate, scusi, scusi sindaco, mi faccia finire, permetta di che io finisca il discorso. Allora, io quello che voglio dire, non è che si nega il fatto che c'è una nazione che si chiama Italia, ma il fatto che comunque esistono delle realtà che si chiamano Milano, Lombardia, non vogliono negare l'Italia, e viceversa, l'Italia non deve negare il fatto che ci sia la Lombardia e che ci sia Milano. Per fare degli esempi. una nazione fatta di tanti campanilismi, che hanno fatto anche grande il nostro paese, perché anche queste piccole rivalità hanno, lasciatemi dire, dato vita a una sorta di concorrenza che ha fatto soltanto bene. Al di là di questi campanilismi che fanno sì che ognuno di noi si senta più legato alla terra dove è cresciuto, dove ha deciso di stabilirsi, l'orgoglio esiste. L'orgoglio esiste soprattutto nei visi di quelle persone che quest'anno, parlo di visi giovanissimi, bambini, che per la prima volta quest'anno hanno capito, anche all'interno delle istituzioni scolastiche, ma non solo, anche all'interno della propria famiglia, della propria città, cosa sia l'unità d'Italia. L'unità d'Italia è un valore, è un valore che viene trasmesso e che deve essere insegnato, deve essere sancito dalla nostra Costituzione, ed è per questo che deve essere tanto rispettato e allo stesso modo anche veicolato. Chi non ama l'Italia? E qua entro nella cronaca quotidiana. Quei ragazzi che abbiamo visto sfilare sabato a Roma, quelli non amano l'Italia. Quelli che hanno scritto su muro 10, 100 mila nasiria. Quelli che hanno fatto il cartello 110 mila nasiria. Quelli che si permettono di incendiare una città che al di là dell'essere la capitale d'Italia, dell'Italia Unita, è uno dei gioielli più preziosi che abbiamo al mondo, dei gioielli di civiltà, dei gioielli di cultura. Questi sono quelli che non hanno l'orgoglio di essere italiani, ma probabilmente non hanno neanche orgoglio personale. Scusi Ruggero, vorrei sentire un attimo gli altri protagonisti di questo studio, anche chi non ha parlato. Angelo, vuole dire una cosa tu? Sì, volevo dire al professore, è giusto sentire l'appartenenza innanzitutto al proprio comune, al proprio territorio circostante. Ma questo non va in contrasto con sentirsi anche italiano. Cioè perché un'appartenenza deve essere univoca e non può essere allargata anche al territorio nazionale? Forse non sono riuscito a spiegare prima una cosa su cui continuo a insistere. Una cosa è la nazione, una cosa è lo Stato. Sulle picche della Serenissima, la battaglia di Agnadello, quando tutta l'Europa era coalizzata contro la Serenissima, c'era scritto Defensio Italia, difesa dell'Italia. Ma nessuno a quel tempo avrebbe pensato Serenissima, sciogliti e resta inglobata in una camicia di forza di questo tipo. Perché nessuno avrebbe detto una roba di questo tipo, è una follia. Allora bisogna capire questa cosa, cioè un conto è l'essere italiano come nazione. E nel Regno di Napoli si consideravano italiani come nazione. Nell'Ordine Toscana lo stesso. Altra cosa è inglobare tutti in una camicia di forza. La tragedia che emerge dal discorso che appena è stato fatto dall'amministratrice che ha appena parlato. E questa, cioè che l'Italia delle cento capitali sta mortificata ad essere una serie di città provinciali che non contano nulla grazie all'unità d'Italia. Ma questo è il paese in cui Mantua era una capitale, Palermo era una capitale, Napoli era una capitale, Firenze lo era, Venezia. Ma come siamo potuti finire così in basso dall'essere adesso ridotti così? Allora vedo dei volti poco. Non possiamo ripensare ad uno Stato che dia al cittadino nel 2011 più libertà, più possibilità di intraprendere. Non possiamo ripensare ad un grande Stato, ad un'azione con tanti piccoli Stati perché si creerebbe come dire un centralismo che dal livello nazionale arriva al livello locale. Voglio dire ai miei cittadini di Magente, di Opere di Monza, credo che importi poco sapere se c'è una legge, una norma iniqua se l'ha fatta il governo o se l'ha fatta il sindaco del Gobbo. Al cittadino interessa poter vivere in un certo modo all'interno. Allora, forse oggi, quello che sto continuando magari a ripetere e a buttare lì, un vero federalismo che dica all'interno di una nazione, di uno Stato, che è quello che abbiamo, creiamo delle situazioni per cui gli enti locali, dai comuni fino alle regioni, siano più liberi, abbiano un'autonomia, ma rendano conto direttamente, magari anche a livello impositivo, perché se il Comune di Magenta decide di mettere una tassa ai miei cittadini, il Comune di Opera un'altra, i cittadini possono anche rendersi conto e dire, ma come amministra il mio sindaco, quanto pago di tasse, quali sono i servizi che ho, quanto mi ritorna? Allora, il federalismo, inserito in un discorso di sussidiarietà, potrebbe veramente rappresentare l'unità unita con davvero maggior responsabilità agli enti locali e maggior vicinanza delle istituzioni e dei cittadini. No, scusate, ho la pubblicità, devo fermarmi, però a me è questa storia dei singoli stati, mi ricorda il fiorino di Troisi, quando passava e c'era la gabella da pagare, non è che torniamo quella roba lì. Perché lei invece se l'autostrada di oggi non paga il pedaggio. Pubblicità, tra poco. Non al sud. Siamo fuori.